È muro contro muro tra Volkswagen e due controllate del gruppo Prevent che hanno interrotto le consegne dei rivestimenti dei sedili e delle parti in ghisa per le scatole del cambio. I due fornitori lamentano la cancellazione dei contratti da parte del costruttore senza offerte di compensazione. La Volkswagen ha chiesto di requisire con la forza la componentistica dagli stabilimenti. È difficile immaginare che si possa costringere una società a consegnare dei pezzi, soprattutto se non sono ancora stati prodotti. Questo significa che si tratta di una mera dimostrazione di forza che è diventata di dominio pubblico. Credo che tutto si concluderà presto con un accordo che verrà raggiunto in una o due settimane perché le due società sono sotto osservazione in questo momento e le perdite si accumulano di giorno in giorno. Lo stop alle consegne ha bloccato le linee della Golf a Wolfsburg e fermato la produzione in almeno quattro fabbriche della Germania. Se le due controllate del gruppo Prevent non prenderanno una decisione in merito lo farà un tribunale. L'udienza è prevista il 31 agosto.